ciao ragazzi benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video oggi ho voglia di mostrarvi alcuni degli accessori del mio nuovo computer che se tutto va bene dovrò comprare prima dell'inizio di quest'estate o nel mese di luglio intanto c'è un carica vaia ma non fateci caso però prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivate la campanella per non perdere nessun video nuovo commentate condividete e seguimi anche nel mio instagram pilostratino basso live allora iniziamo perché ho qua tre prodotti da farvi vedere e iniziamo con dire una cosa io il mio computer l'ho voluto un po da gaming anche se devo dire la verità gioco poco col computer perché il computer lo uso soprattutto per elaborare video per lavorare video con green screen eccetera eccetera però gaming ci gioco veramente poco a parte di sims 2 quindi ho detto compriamoci una bella tastiera paghemi e ho comprato questa la tastiera della trust modello avon trust della serie g xt l'ho comprata alla media world l'ho pagata 19 ore 90 è tutta retro illuminata molto 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 pratica perché l'ho già testata funziona e adesso qui vi metto il contributo video allora ragazzi questa è la mia tastiera guardate che bella tutta tutta illuminata è bellissima non si sente neanche il numero dei tasti è bellissima faccio vedere anche tutti i dettagli è molto molto bella una tastiera molto pratica colorata e qua e qua andiamo se in qualche modo farvi vedere ci sono due tasti in cui io posso aumentare e diminuire la luminosità così io vedete la luminosità si è disattivata e questa la posso aumentare quanto voglio è veramente una tastiera con i fiocchi pagata pochissimo e dopo la tastiera da gaming non potevo che comprare un suo fratellino sovelino avvero il mouse questo è il mouse sempre della trust modello rava della serie g xt l'ho pagato 11 90 invece di 29 90 perché era in offerta alla media world è molto molto bello e come la tastiera come la tastiera avon anche lui è tutto retro il retro illuminato e anche qua ragazzi vi metto il contributo video ragazzi questo è il mouse in funzione vedete com'è bello retro illuminato e poi man mano vedete cambia colore è bellissimo se si riesce a capire si cambia colore ed è veramente una bomba è una bomba scusate un po' se ci sono luci basse ovviamente è un mouse ottico molto molto bello procedere dappertutto qui laterale abbiamo due tasti uno qua e uno qua per andare avanti indietro i classici tasti destro centrale e sinistro e più il questo da di conferma molto molto bello e concludiamo con un altro accessorio per il mio nuovo computer ho preso il mouse da gaming la tastiera da gaming e mi sono preso anche le cuffie da gaming queste sono cuffie camouflage da gaming della marca extreme predator xc 300 process headset molto belle sono compatibili con la playstation 4 xbox one computer e switch le ho prese in promozione alla media world a 32 e 90 invece di 44 e 90 sono molto belle pratiche ma soprattutto leggere e il suono si sente benissimo e anche qua mi metto un contributo video ed eccole qua le mie cuffie camouflage molto belle questo è il microfono che è regolabile è di plastica perché è flessibile e regolabile molto sono molto come dire confortibile perché qua c'è questa specie di 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 cuscino che adottisce proprio il bene il 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 suono si sente bene ovviamente è regolabile perché qua ci sono le si può aprire vedete si apre che qua si può anche chiudere è molto 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 bella regolabile e ovviamente ha anche il suo telecomando con il microfono attivo o disattivato e il volume dell'audio delle delle cuffie e hanno a però un solo spinotto e vi spiegherò alla fine cosa mi serve perché ci vuole uno sdoppiatore facendo però un test con le con le cuffie mi sono accorto che devo prendere uno sdoppiatore per il computer e io purtroppo qua ho uno sdoppiatore sbagliato ho uno sdoppiatore sbagliato perché dovrei avere maschio maschio e una femmina invece che cos'ho ho due femmine e un maschio perché nel mio computer c'ha le entrate una al microfono e una al alla cuffia e niente ragazzi mancherebbe anche la la webcam a quella la vorrei comprare per ultimo assieme al computer ma comunque non vi preoccupate computer cp la cpu e la webcam farò un video insieme che dire ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo questo video tutti i prodotti che ho comprato vi li metto sotto nel link nei link della media perchè li compro di tutte la media world visto che la media world ogni cosa che cerco la trovo a confronto ad altri negozi di elettronica ma devo dire che la media world è la mia preferita vi metto tutto sotto nell'info box nei link dove potete acquistarla sono molto costano veramente poco ragazzi sono costano veramente poco e ne vale molto la la loro qualità perché sono fatti di buona qualità io con questo vi saluto e ci vediamo in un prossimo video un bacione ciao ciao